Solo il campo, oggi di calci. Ciao, sono Elena Linari, ho 22 anni, gioco a calcio e sono un difensore. Nella mia vita sono anche una studentessa, gioco a calcio per la maggior parte del tempo, però seguo appunto l'università di scienze motorie, sono al secondo anno. Ci sono tante difficoltà nel caso, però è importante anche continuare gli studi perché sono appunto importanti per il mio futuro. Il calcio femminile per me è tutto, è la mia vita, anche se siamo ancora dilettanti qua in Italia, però dedico gran parte del mio tempo alla cura di ogni dettaglio, a partire dall'aspetto fisico per poi arrivare a quello in campo. Cerco di sviluppare ogni parte del corpo nella maniera più giusta possibile e allenarmi nel migliore dei modi per poi arrivare alla partita al top. Spesso calcio maschile e calcio femminile vengono differenziati. A mio parere non c'è nessuna differenza se non una apprettamente fisica, perché si sa bene che appunto l'uomo è più percentuale muscolare rispetto ad una donna e questo sicuramente fa la differenza e si rivede anche in campo. Però a livello tecnico e tattico non abbiamo niente da invidiare ai nostri colleghi maschietti. Beh, sicuramente la sfida è sempre ben accetta e è bello anche confrontarsi con loro per fargli capire che insomma c'è anche il calcio femminile, non soltanto quello maschile e non siamo poi così scarse come tutti possono credere.